Il verbo imparare oggi è più ricco. Si impara facendo, si impara insieme, si impara per tutta la vita. Quindi questo mondo digitale che anche a me sembra strano, nuovo, non interpretabile, invece si può affrontare. Facciamolo insieme a Modena il 6 giugno al Museo Ferrari. Vedrà, impareremo un sacco di cose nuove, lo faremo divertendoci e quando torneremo a casa avremo in tasca un sacco di cose in più.